Napoli-Bologna termina 0 a 2. Il Napoli ebbene perde contro il Bologna, giocando in casa il Bologna riesce a vincere facendo due bellezze di gol. Entrambi i gol vengono fatti da due giocatori distinti separati, diversi. Si tratta di Dan Doigli, il primo nel primo tempo e sempre nel primo tempo di Stefan Posch. Le statistiche sono buone per il Napoli, tutte possano di vada maggiore, più passaggi, una previsione di passaggi a livello percentuale maggiore ripeto rispetto al Bologna. Bene, voglio congratularmi ovviamente con il Bologna, peccato per il Napoli che però ha giocato meglio secondo le statistiche, il progettario è qua assolutamente. Iscrivetevi se vi va a commentare, una buona serata.